Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Il G-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Oh happy day Oh happy day Oh happy day Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guardala, che confusore. Guarda lì, guardala, che male truccante.